Buongiorno a tutti, come state? Abbiamo un cambio di location perché da quella parte del salotto ho un gran casino e soprattutto mi serviva luce e mi sono messa qui davanti alla porta del giardino sul retro, non riuscivo a trovare una luce decente I palleggi che sentite mi dispiace molto per questo bam 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 di sottofondo ma Tommaso oggi, oggi è Pasqua per noi, ha ricevuto una palla da basket e è fuori che gioca con questa palla è appena tornato, cioè io ho messo play e lui era appena tornato da casa del suo amichetto, dal parchetto in realtà Quando si dice il tempismo? Allora, sono qui per mostrarvi i regali di compleanno, i regali che ho ricevuto per il compleanno avete visto il video della mia festa di compleanno, grazie ancora per tutti gli auguri che mi avete fatto è stata una festa meravigliosa, le mie amiche sono venute tutte, quelle che avevo invitato, insomma sono venute tutte ne abbiamo festeggiato, mi hanno sorpreso, mi hanno regalato una torta quindi tutte quante hanno commissionato ad una persona una torta con una piccola Alessandra in pasta di zucchero che purtroppo ieri, io me la stavo conservando, la stavo facendo seccare perché me la volevo conservare purtroppo ieri ha fatto una brutta fine perché mia figlia l'ha... se l'è mangiata fino alle ginocchia mi sono arrabbiata moltissimo, sia chiaro, non avrebbe assolutamente dovuto, sapeva benissimo di non doverla toccare vabbè, succede, succede è stato bello, chiaramente mi hanno fatto i regali, abbiamo mangiato, hanno apprezzato tantissimo tutto il cibo che ho fatto e ne sono molto orgogliosa, sono molto contenta di questo è molto bello vedere, chiaramente veder sempre apprezzato il proprio sforzo in qualsiasi cosa quando fai qualcosa con impegno, con amore, è sempre bello vedere negli altri, negli occhi degli altri o nelle parole degli altri trovare un riconoscimento, è molto bello e non è neanche così scontato all'estero, quindi far conoscere il tuo cibo, la tua cultura, anche il modo di fare festa, le nostre abitudini banalmente anche nel modo dell'apertura dei regali che ogni paese ha la sua è molto bello venire apprezzati, quindi questa cosa mi ha fatto ancora più piacere abbiamo cantato ed è stata la parte più divertente chiaramente abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, abbiamo riso mia amica brasiliana mi ha regalato anche una bottiglia di champagne che aveva a casa mi ha detto guarda vado e la prendo perché devi assolutamente aprirla come si fa a capodanno aprirla e fare esplodere la bottiglia e quindi siamo andata anche in giardino a fare quello poi c'è stato il momento della pignata che è stato un gran successo alla fine l'ho dovuta assassinare io col coltello nonostante gli abbia fatto tre tagli giganteschi col coltello non siamo riusciti a romperla fino anche col bastone per terra l'ho proprio trafitta io non so, la pignata dovrebbe essere fatta in maniera molto leggera cioè con una struttura di cartone poi dovrebbe essere fatta di, non dico di velina ma comunque della carta sottile in modo che le botte la aprano questa era fatta di un triplo strato di cartone con cui secondo me potrebbero costruire le case perché quella forma 40 comunque erano tutte forme piuttosto sottili quindi questo cartone così grosso non l'avresti mai distrutto manco saltandoci sopra era di una forza incredibile di una resistenza incredibile comunque i miei regalini della pignata sono stati molto apprezzati devo dire che inizialmente quando ho visto queste cose cadere pensavano fossero dei preservativi in effetti non ci avevo pensato però potrebbe pure essere e io ho detto ragazze sono una signora mi conoscete hanno molto apprezzato a noi ne sono rimasti un paio di lip balm e per chi non lo sapesse la mia pignata era ripiena di lip balm di 12 gusti diversi mi pare e delle bustine di Alka-Seltzer come a tipo aspirina da post sbornia quindi queste erano le cose un po' così vi faccio vedere che cosa mi hanno regalato mio marito mi ha regalato l'Apple Watch che ha preso in questa versione dorata come il mio iPhone presumo l'abbia fatto per quello con questa col cinturino in maglia sempre di questo dorato in realtà il dorato dell'iPhone anche di quest'anno insomma l'ultimo è molto delicato non sembra molto dorato mi piace molto mi piace molto ancora non ho capito esattamente come si usi so che quando mi arrivano delle cose sul telefono le vedo qui ma ancora non mi sono messa a frugare imparare lo devo fare perché insomma si merita un utilizzo completo giustamente poi allora ho ricevuto due bottiglie ups una è qua scusate ho ricevuto due bottiglie uno è un Merlot un vino cileno che però mi ha regalato la ragazza canadese è il Castigliero del Diablo mi ha regalato questo con una scritta dove l'ho messa? ecco ci siamo già persi la prima oi ragazzi ma la testa di Alessandra l'abbiamo persa ma perché sono così? mi ha regalato questo con ah eccola qua una scritta mi ha detto questo regalo è simpatico oppure utile cioè simpatico è utile è alcolico la parte simpatica è questa targa io adoro targa e decorazione tutto questo questa sta nel bagno di giù e c'è scritto wash your hands no seriously don't be gross quindi lavati le mani no seriamente non non essere schifoso e quindi questa è carina metterla nel bagno e mi ha regalato anche una candela una candela alla citronella per l'esterno che io dovrei sapere dove sia in questo momento ma mi sa che uno dei miei figli ha messo le mani mi ha regalato questa candela alla citronella per l'esterno che è molto carina ci sta anche molto bene con le decorazioni del mio porch e quindi siccome ho visto che le zanzare già stanno iniziando questa è la parte utile ovviamente è molto carina e quindi abbiamo anche la candela avevamo la candela alla citronella qui mi vedono tutti quelli che passano per l'esterno un'altra mia amica mi ha regalato invece questo un'altra targa questa è più grande da interno ora l'ho messa qua sopra poi vediamo devo ancora sistemare di nuovo tutte le decorazioni ho ancora un gran casino c'è scritto bless in metallo ed è una decorazione di legno e dentro è fatta così si può anche appendere e quindi così speriamo di potermela portare in Italia questa sì l'altra non lo so poi 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 ho ricevuto dalla mia amica spagnola allora mi ha regalato taram taram e voi magari qualcuno ride ora al di là del ventaglio spagnolo questo è un regalo per me molto utile chiaramente è una cosa molto caratteristica quindi insomma anche un po' particolare chiaramente non è fa un po' signora in chiesa però la verità al di là del fatto che sia un regalo che mi porterò nel cuore perché chiaramente è un bellissimo ricordo la ragazza spagnola tra l'altro rimarrà anche il prossimo anno io i ventagli li uso davvero questo volevo dire che io i ventagli li utilizzo davvero e ho sempre un ventaglio ma di quelli da un euro di compensato insomma io ce l'ho sempre un ventaglio in borsa durante le stagioni calde quindi io lo uso davvero e poi mi ha regalato anche se già è incagliata è incastrata mi ha regalato anche questa collanina in sterling con questi svaroschini qua e quindi c'è anche la collanina poi la mia amica invece ucraina mi ha regalato questa borsetta che è molto carina per il mio stile forse è un pochino grande questo fiocco devo dire la verità però è un regalo molto carino molto primavera estate tra l'altro e quindi c'è questa borsetta questa borsetta che si apre così a cestino molto romantico con i fiorellini dentro e dentro c'è anche la cioccolata ucraina ah tra l'altro cioccolata al latte con le mandorle questa è mia ovviamente questa rimarrà qui in segreto con me e questa è molto carina lo stesso troverò il modo di abbinarla e di utilizzarla anche se vi ripeto che non sono una da fiocchi ma tant'è poi un'altra ragazza del Canada ora che ci penso entrambe le ragazze del Canada mi hanno regalato vino e questo è un sono bollicine della California e poi mi ha regalato anche un biglietto molto carino dove c'era la spilla che però non ho qui in questo momento ce l'ho su una spilla grande grande così dentro questo biglietto molto carino e che ho indossato anche la sera della fissa l'ho indossata anche il giorno dopo però nella scuola poi vediamo un po' mi è stato regalato anche la bustina di Victoria's Secret I love Victoria's Secret con questo duo che adesso posso aprire perché finora mi credete che i regali li sto aprendo adesso nonostante sia passato ci sono passati tre giorni quattro giorni io vorrei tanto sapere cosa stanno facendo fuori cosa stiano facendo fuori abbattere abbattere vabbè comunque l'importante è che stiano giocando e che io riesca a fare questo video in questi minuti che è veramente una cosa più unica che è rara abbiamo non riesco ad aprirlo niente Victoria lo leggiamo qua ok abbiamo un piccolo de parfum e poi abbiamo una lezione profumata volevo sapere semplicemente che profumo fosse questo tease ma non ho capito ma c'è la confezione antifurto anche dopo che anche dopo che l'hai compiata guarda gli api sono cazzolata la mano oh mi hanno capito ma si spruzza ah no questa cosa è buono mi piace è leggermente dolce mi ricorda qualcosa o qualcuno addirittura mi ricorda qualcuno è una fragranza dolce che mi si addice devo dire la verità io non sono una da profumi qui non l'ho portato il mio profumo mi piace si lo userò davvero perché mi piace davvero quindi sarò molto contenta poi che cosa ho ricevuto allora un regalo questionabile diciamo allora ora io ci ho riso anche con un'altra amica perché non lo so comunque questo è un kit di primer c'è un primer glitterato lo proverò diciamo che questo forse è l'unica cosa che posso usare dopodiché questi me li definisce due primer colorati ora io li ho messi sulla mano li ho messi e questi sono veramente i colori che escono quindi non so come si possano definire primer colorati questi ma anche gli ombretti non so se sopra i cinque anni come si possa pensare che uno si li metta addosso o vabbè credetemi non lo so veramente non lo so probabilmente sicuramente la persona che l'ha comprato non l'ha comprato senza capire esattamente che cosa che cosa fossero perché cioè poi voglio dire mi vedi come mi concio io non esattamente così e li ho provati questo non se ne è andato per tre giorni dalla mano nonostante docce detersivi e tutto il resto quindi questionabile diciamo mentre mi ha regalato anche questo kit dice è un kit per manicure con due colori che dovrebbe durarti 21 giorni senza l'utilizzo della lampada ora il problema sarà toglierlo perché sono molto curiosa di provarlo non so quando lo farò ma comunque sono curiosa di provarlo il problema è che chiaramente bisogna poi trovare il metodo sapete di dover rimuovere il semi permanente a me è già capitato è un po' un casino quindi quello che mi blocca dal provarlo immediatamente è la voglia poi di rimuovere il semi permanente perché devi prendere a parte il solvente apposito devi poi mettere l'alluminio aspettare bla 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 e quindi questa cosa un po' mi blocca però lo stesso mi incuriosisce molto e ci sono due tipologie di rosso diverso poi 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 le mie due amiche brasiliane mi hanno regalato questa questa borsa di Tommy che ha sia il manico che la come si chiama la tracolla questa è molto carina ed è appunto una borsa di Tommy con il logo dorato che non riesco a chiudere ecco qua questo è molto carino poi ah un'altra mia amica mi ha regalato un tumbler un tumbler si chiama giusto tumbler sto dicendo fesserie vabbè insomma questa cap ermetica in alluminio con senza manico giusto con il alluminio dentro ecco io queste le uso le porto a scuola ci vado sempre a scuola con queste quindi mi fa molto comodo averne un'altra questa scritta leave ecco Balene ovviamente Eleonora quando l'ha vista ha detto subito il mio vabbè poi ho ricevuto vari bigliettini vari ed eventuali ho ricevuto questo kit di Bath & Body Works dove c'è ecco neanche questi ho ancora aperto è questo kit di tre cose e abbiamo un questo è molto carino perché è un disinfettante per le mani il mio sta terminando quindi questo me lo metto in borsa con queste perline la profumazione è champagne toast e poi c'è anche c'è la crema corpo e poi questo mist quest'acqua profumata insomma da spruzzare poi boh vabbè comunque poi ho ricevuto quest'altro braccialetto che è lo stesso è in argento no secondo me è metallo non è argento questo comunque ha questa chiusura così questo gancio così a salvagente non so come dirlo più più questa ala ed è appunto così però vedete io indosso indosso come colore indosso colori caldi da oro giallo diciamo non è niente di oro quello che indosso però insomma come colore indosso colori caldi e poi ho ricevuto quest'altro kit ah mi sono scordata il cioccolato vabbè questo kit comprendeva anche una barretta di quadrata di ritter sport di cioccolato ed il kit è il kit mamma rilassati e c'è la bomba da bagno che in questi giorni farò però oggi mi sa che oggi non riesco però poi c'è la yankee la candera da mettere a bordo vasca che mi ha mi ha stupito ha un profumo buonissimo si chiama wild orchid quindi un'orchidea selvaggia e generalmente io non prendo cose floreali così è buonissima molto molto buona quindi questa mini yankee poi c'è del di the body shop c'è questo bagno schiuma idratante al strawberry la fragola praticamente berry quindi ai frutti di bosco questo è il bigliettino poi c'è una maschera all'argilla e anche dei patch occhi il cioccolato e quindi questo è il kit relax l'ho trovato molto carino poi arriviamo infine ai due regali anche anche questa devo dire rientra che erano i regali più belli che ho ricevuto la top 3 è quella questo regalo qui che mi è stato fatto dalla mia amica makeup artist mi ha regalato una confezione di tripla maschera in tessuto di pixie questi qua glow poi mi ha regalato la palette pixie di illuminanti è blush blush illuminanti perché insomma questi voglio dire sono blush forse questi illuminanti ma tutto il resto sono blush ovviamente è una palette mix mista volevo dire scusate per le varie complexion io chiaramente non penso mi metterò ad utilizzare tutti i colori ora se voi mi conoscete sapete che io non ho mai posseduto un illuminante in vita mia questa è la prima volta che ho degli illuminanti ma dato che mi è stata regalata la prova volentieri ecco non mi ci sono mai messa sinceramente penso che probabilmente qualcosa adesso sinceramente questo è quello che voglio usare di più anche perché io non ho un blush non mi sono ancora comprato un blush sono mesi che lo dico quindi questo è probabilmente anche uno di questi questi tre probabilmente sono quelli che mi incuriosiscono di più ma questi altri tipo anche questo ma anche questi questi stessi io li utilizzerei anche come ombretti vedremo vedremo come andrà il mio rapporto con gli illuminanti o se si interromperà subito e mi ha regalato anche questo pennello di Real Techniques che è il Brightening Concealer perché che va benissimo anche per gli illuminanti tra l'altro io non mi metterò mai illuminanti qua cioè io io pelle che si lucida e soprattutto adesso col caldo non sono una che si è ma mai non l'ho mai fatto qualsiasi stagione anche se la mia pelle è migliore sicuramente di non so di cinque anni fa ok però non è roba per me quindi non mi vedrete mai con la sberla di illuminanti cose no questo mi ha detto che è un pennello che online è andato virale quindi non è una brutta malattia ma è un pennello molto famoso è tra i Real Techniques è uno di quelli che mi mancano poi che mi mancavano perché adesso ce l'ho l'ultimo regalo che è sicuramente il più bello di tutti sento di non farmi dimenticando qualche cosa la pochette ve l'avevo già fatta vedere quella di carlottina l'ho fatta vedere nel video se non sapete di cosa sto parlando sia dei fiori che ho ricevuto che della pochette che ho ricevuto andate a vedere il video del 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 mio quarantesimo compleanno lo vedete lì perché adesso non ce l'ho il regalo più bello è stato quello della mia vicina di casa che mi ha regalato il pigiama di Gilmore Girls Gilmore Girls di una mamma per amica guardate blu con le tazze di Luke tra l'altro io in Italia ho la tazza di Luke qui ho però la maglia maniche lunghe con la maglietta a maniche corte in viscosa sarà poliestere non lo so però insomma per farvi capire questa è sicura quella tipo licra al tatto che cos'è poliestere spandex ovviamente però al tatto avete capito quella tessuto liscio morbido morbido voi capite che cioè bellissimo ma non solo perché mi ha regalato anche questa mi ha regalato anche la tazza I'd rather be watching Gilmore Girls quindi preferirei in questo momento guardare Gilmore Girls con verde bellissima bellissima che vi devo dire questo regalo sicuramente questo è il numero uno numero due probabilmente i trucchi eccetera eccetera numero tre la borsa mi sono piaciuti tutti i regali per carità però se dobbiamo fare una classifica sicuramente è quello e basta 20 minuti insieme li abbiamo passati fatemi sapere se c'è qualcosa che vi è piaciuto non lo so non ho idea veramente vi ringrazio perché in tante mi avete scritto su instagram soprattutto che dalle foto che avete visto eccetera che sembravo molto felice lo ero e lo sono ancora sono molto contenta di aver dato questa festa sono molto contenta di aver scelto queste persone per festeggiare con me porterò questo ricordo nel mio cuore sicuramente sì molto contenta di aver festeggiato anche nelle sciocchezze nella non lo so nella fare la pignata nel tutto ah riguardo l'usanza di cui parlavo prima dovete sapere che a seconda dei paesi da cui la gente proviene c'è un'usanza diversa relativa all'aprire o meno i regali lo sapete che da noi se un ospite ti porta qualcosa perché viene a casa tua e ti porta qualcosa è educazione aprire il regalo davanti a chi te lo fa durante i compleanni diciamo che per evitare di stare lì ad aprire mentre si impiedi davanti alla porta di aprire i regali così di dire ah bello chiuso così generalmente i regali si aprono a fine della festa dopo la torta io ho spiegato che per alcuni poteva risultare maleducato lo sapevo che per altri sarebbe risultato strano per altri sarebbe risultato normale infatti così è stato ma in Italia per noi aprire un regalo cioè quando un ospite ti fa un regalo è una dimostrazione di rispetto nei suoi confronti e gratitudine nei suoi confronti aprirlo e apprezzarlo davanti a chi te lo regala e basta sono vedete un po' deficiente sono ancora molto contenta molto contenta veramente di tutto quello che ho fatto che abbiamo fatto e di come ho vissuto questo importantissimo compleanno so che diversamente se non avessi fatto così me ne sarei me ne sarei pentita devo dire la verità non facevo un festeggiamento così grande insomma così intenso da non ricordo veramente da tanti tanti anni quindi evviva e di nuovo auguri a noi a questo canale che ha compiuto 10 anni ci vediamo al prossimo video ciao